Salve a tutti, permettete che mi presenti, sono Angelo Passarelli e con questo filmato voglio parlarvi del mio ultimo libro di poesie, anzi più che poesie diciamo del mio ultimo poema Atlel, il segreto dell'Aquila. Chi è Atlel? Atlel è il nostro eroe, il personaggio che ha dipinto sul suo petto il disegno di un'aquila. Un'aquila variopinta che ha diversi colori, tanti colori che cambiano a secondo le circostanze, a secondo anche l'umore dello stesso atleta. Atlel, il mio eroe, è il protagonista di avventure fantastiche, incredibili, ove il magico, l'irreale è visto come elemento normale di un dipanarsi la vita normale di un eroe, seppure eroe di non si sente. La base del dipanarsi delle sue avventure, oltre alla scoperta di mondi diversi, irreali, è dettata da una forza inarrestabile, il sole dell'amore che il nostro eroe ha per la sua donna, per quella che lo ha reso schiavo d'amore. Atlel, lealtà, sono sicuro di rimarare nei vostri cuori e tutti, con più o meno convinzione, ci rivedremo nelle sue azioni, nelle sue avventure. Lui, come eroe di sentimenti veri e sinceri, come eroe di un mondo dove è bandita l'arroganza, la tirannide, un mondo da scoprire e vivere appieno nella potosi appunto dell'amore dettato dalla fedeltà e abbandonarsi nell'altro. Queste le due edizioni del mio poema, uno più grande, scritto con caratteri più grandi e con disegni, e uno con caratteri più piccoli, senza disegni. Sono ambedue acquistabili sul sito www.ilmiolibro, che vi lascio anche in descrizione. Augurandovi allora di voler divenire fan di Atlel, vi lascio in descrizione il link dove potete acquistare il libro. Vi auguro, dicevo, di voler anche voi acquisire questa consapevolezza, momento per momento della vostra vita, che è il segreto di vivere appieno la vita stessa. Un caro saluto, il vostro Angelo.